A Dimensione Social e Web 2016 sono stati presentati i risultati della nuova edizione della ricerca ABI su banche e social media, realizzata in collaborazione con KPMG. Una delle novità principali di quest'anno sono i contenuti che le banche mettono online. Cosa è cambiato sul canale social? Le banche hanno iniziato a usarlo in maniera più appropriata direi, nel senso che non più solo testo o documenti, informazioni sui prodotti finanziari che vendono, ma oggetti multimediali, quindi foto, immagini, video e contenuti che meglio si adattano al tipo di canale utilizzato. All'interno dei social media è risaputo, dedico pochi istanti e vengo attratto prevalentemente da contenuti multimediali. Un'immagine rimane molto più impressa e ne catturo il significato in maniera molto più rapida. Un'altra novità che ha sottolineato è l'utilizzo dei sistemi di messaggistica. Esatto, anche qui i canali di messaggio come Whatsapp piuttosto che il Messenger di Facebook stanno superando nell'utilizzo i social network più tradizionali che iniziano anche a essere quasi superati nelle modalità. Ormai accedo al mobile, non apro più, prima era il motore di ricerca Google, poi diventava Facebook, adesso vado su Whatsapp. Ci sono continuamente, l'ultimo accesso è sempre quello del momento, quindi le banche si trovano a utilizzare la messaggistica con canali come Whatsapp, come Messenger, dove ovviamente si trovano più a loro agio. Hanno una comunicazione che può diventare one to one, può diventare riservata, possono essere contattati a loro volta in questo modo ed è l'ambito tra l'altro in questo momento prevalente in quello che comunemente in maniera generalizzata chiamiamo social network. Quindi c'è stata un'evoluzione per andare incontro alle esigenze dei clienti. Continuano a mancare invece internamente delle social media policy. Esatto, questo è un elemento di continuità rispetto alla ricerca precedente, purtroppo nel senso che continuano a esserci più della metà delle banche che non ha una propria social media policy, che vuol dire non ci sono delle regole di utilizzo dei social media, nello scrivere i contenuti, nel dialogare con i clienti. Questo è curioso che in un mercato altamente regolamentato, dove la compliance incide fin nei dettagli su numerosi ambiti, non ci sia una attenzione a un tema che è prima di tutto di etica, di comportamento, di contenuti che non devono valicare evidentemente certi confini. Il fatto che per i dipendenti stessi non ci sia una regola di comportamento. Il social network ha annullato la differenza tra pubblico e privato. Non è che al termine dell'orario di lavoro o perché ho una pagina Facebook smetto di essere un dipendente con un certo ruolo all'interno di una banca. Quindi è un rischio anche per il dipendente che ha come ruolo quello di dover scrivere e interagire con i propri clienti, con i clienti della banca all'interno del social network, in assenza di regole è esposto anche a un rischio in questo senso. Tenuto presente tra l'altro che le banche all'estero invece su questo sono attentissime. Ci sono banche che vietano ai propri dipendenti addirittura l'apertura di un proprio account personale. Questo è un tema che ha rilevanza sotto molti punti di vista, non solo in termini di contenuti, di etica e di limiti di ciò che posso pubblicare all'interno del social, ma anche in termini di sicurezza informatica a cui le banche possono essere esposte nel non gestire correttamente questo tipo di tema.